e buongiorno bentornati nel mio canale benvenuti a tutti i nuovi iscritti un bacione grossissimo da me Vincenza allora ragazzi oggi si può dire che si campa diciamo qua in Sicilia perché sventola c'è l'aria più fresca io ho un macello devo fare un sacco di cose non è che ho sporcizia ho disordine disordine perché ieri sera sono andata a mare sono tornata di mare che erano le 8 ragazzi quando vado a mare la mia nipotina non sta a fermo un attimo però è bello perché ci facciamo delle belle passeggiate e gli racconto delle storielle poi cerchiamo le conchiglie ci divertiamo un sacco e io adoro stare a mare con la mia nipotina è troppo bello ragazzi troppo troppo e niente ragazzi ero stanchissima perciò ho cucinato ma non ho fatto ho lavato due piatti ma il resto l'ho lasciato proprio perché essere amare il pulito va bene però non essere troppo che io dovevo mi dovevo andare a coricare tipo l'altra sera sono andata a letto alle 2 per avere la casa tutta bella sistemata no io già alle 10 e mezzo era a letto che mi guardavo il film sul mio letto comunque ragazzi io mi vado a spicciare vi lascio il mio video spero sempre che questo video vi faccia da motivazione ma intanto con bella compagnia e anche che vi faccia rilassare perché a volte vedere i video di pulizia sono anche rilassanti io cerco di farvi stare il più bene possibile comunque ragazzi io vado a cominciare dalla camera da letto perché mia nonna mi ha insegnato questo figlia mia prima che lei mi diceva quando mi alzavo ma io quando mi alzo non ce la faccio specialmente il sabato perché il sabato ci prendiamo il caffè chiacchieriamo facciamo colazione insieme non è che io vado a pensare al letto no però lei mi diceva quando ti alzi la prima cosa che devi fare devi fare il letto nonna questo non lo faccio però ti assicuro che comincio dalla camera da letto se ci tengo a far vedere tutto il disordine che c'è a casa mia è perché molti dicono pulisci sul pulito no sul sporco non ci pulisco perché la casa è sempre pulita ma sul disordine sì guardate qua che cosa c'è a tavola guardate anche il sacchetto della spesa a terra guardate la maglia che ho detto che devo stirare ma devo stirare anche due cose della mia piccolina perché io le cose della mia piccolina li stiro ferro che funziona ferro che non vuole funzionare poi guardate cosa c'è nel tavolo guardate qua poi hanno il vizio che si fa nel caffè la cialda la lasciano qua e la sacchetto lo mettono qua così pezze messe alla rinfusa piatti da asciugare stoviglie da lavare cucina da sistemare poi che abbiamo qua non vi dico il disordine del disordine panni da lavare e panni da piegare e non poteva mancare ragazzi la stanzetta dei ragazzi mamma mia guardate qua che c'è disordine qua disordine nel bagno guardate giusto che vi faccio vedere il prima e poi vediamo il dopo guardate qua questa è la stanza degli orrori letto da fare vestiti da sistemare perché andando a gaming in questo letto non ci dorme perché dorme giù da simona ma c'è un casino perché tutte le cose vanno posate in questo letto tutte le cose da sistemare poi in camera ragazzi cosa abbiamo scarpe per terra vestiti da piegare letto da rifare e non vi dico cosa c'è nel comodino di mio marito poi non vi posso dire quello che c'è di tutto nel mio magari troverete gli occhiali le pinze qualcosa per per le creme per il viso e il mio librettino di preghiera questo comunque dalla camera da letto ragazzi mettiamo prima la musica e cominciamo da qua ciao 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.